bella rega qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi oggi aggiornamento discreto io direi non è un aggiornamento così favoloso ma noi ci accontentiamo quindi hanno cambiato la macchina come al solito dentro il casino ragazzi non ricordo il nome di questa macchina ma sul canale trovate glitch per prenderla ragazzi per vincere sempre ciò che si vuole nella ruota del casino quindi io passerei direttamente ragazzi a ls dove troviamo sul podio la ominis ragazzi come al solito fare le gare di questa categoria arrivare ai primi tre poi rockstar ci propone ragazzi la jester classic la futo ragazzi e quest'altro veicolo che così di primo acchito mi sembrava la mamba ma non è la mamba ragazzi ed è veramente veramente carina come veicolo diao ragazzi ci stanno proponendo di nuovo la 5 fette quindi a questo punto io cambierei zona andiamo qua dagli showroom ragazzi dove avranno messo altri due veicoli vi voglio ricordare raga che sabato ci sarà l'estrazione per l'account in palio quindi state pronti a questo punto come potete vedere hanno messo queste due macchine niente di nuovo ragazzi poi andiamo da simeon dove troviamo niente di nuovo come al solito ragazzi sempre le solite robe e ce le fanno girare abbiamo questi veicoli qua decidete voi se ricomprarveli per inesia volta o se siete giocatori nuovi potete anche comprarveli quindi a questo punto una volta guardati i veicoli non c'è niente di nuovo veicoli nuovi non ce ne sono ragazzi cosa facciamo apriamo il menu di pausa e andiamo a vedere dove stanno le gare quelle a tempo abbiamo quella esclusiva next gen al mono ragazzi dopodiché abbiamo quella dell'rc bandito in questa posizione e l'altra quella normale diciamo per tutte le piattaforme un po più in su ragazzi verso sandy shores quindi a questo punto per gli amanti ragazzi degli outfit hanno aggiunto una versus ditemi scrivetemi nei commenti se riuscite a fare qualche cavolo di outfit con questa versus a questo punto sono venuto qua dall'agenzia ragazzi perché voglio dirvi una cosa fantastica hanno messo per i giocatori normali il pagamento del colpo ragazzi di dottor 3 doppio quindi non prenderete più un milione ma ne prenderete due se siete col culo parato perché papino vi ha comprato il pass il pagamento del colpo sarà triplo poi regà abbiamo anche gli omicidi in linea col pagamento a uno e mezzo per due ora non ricordo bene vi farò un post ve lo metterò come short magari con tutte le cose scritte ragazzi quindi a questo punto lasciate un like lasciate un commento supportate xavix vi invito a guardare tutte le nuove serie che usciranno che uscite sul canale link in descrizione e alla prossima sba da bam iscriviti al canale